E' nata un anno e mezzo fa e la prima volta che pubblicamente abbiamo parlato della nostra idea, che non era nient'altro che un'idea su 6 slide, è stato proprio qua a World Marketing Festival, dove poi è nata molto bene, andiamo venuti eccetera. E sostanzialmente quando siamo partiti noi avevamo questo sogno, che era quello di dare la possibilità alle aziende, in particolare quelle grandi, che quindi non hanno un pubblico di nicchia, la possibilità di veicolare i propri messaggi pubblicitari utilizzando la creatività e gli spazi delle persone comuni sui propri profili social. Il World Marketing Festival per noi è stato importantissimo perché è stata veramente la prima volta che abbiamo avuto l'occasione di raccontare a un pubblico la nostra idea, che era Grezza però, è stata la prima volta da lì, abbiamo avuto i primi due articoli di giornale, un sacco di persone che si sono interessate a noi, quindi prima di tutto dal punto di vista emotivo, perché è stata la prima volta che abbiamo visto un pubblico interessato a noi e una giuria interessata a noi, quindi voleva dire che il nostro modello di business aveva un senso e che tutti gli operatori del settore apprezzavano quello che stavamo creando. Noi stiamo crescendo tantissimo, adesso siamo 24 persone, quindi l'obiettivo è quello di consolidare questo stato dell'arte, quindi continuare ad avere clienti soddisfatti, eccetera. Quindi per noi è stato il momento zero o il momento uno quasi, quindi noi ogni volta dagli investitori ai clienti durante le nostre interviste diciamo sempre che il World Marketing Festival è stato il trampolino, diciamo così. E' bello lavorare da Friends proprio perché è sempre tutto in discussione, è sempre tutto nuovo e quindi vedremo, però questo è diciamo quello che ci aspettiamo.